ricordisti ed eccoci preparazione bombardier e o canam outlander 400 praticamente ogni modello deriva sempre dalla base dal 2004 all'oggi preparazione gpr terminale in acciaio inox e o carbonio a seconda delle richieste collettore completamente in inox passa tutto il mezzo e lo ritroviamo che arriva fino al collettore di uscita della testa quindi la problematica più grossa di questo quad che era dovuto alla posizione del catalizzatore centrale sul collettore e comunque una strozzatura posteriore è stata risolta con questa preparazione per il mezzo tramite terminale di scarico evoluto con la gpr e abbiamo dovuto fare il completo perché sull'outlander 400 non c'è altra via per ottimizzare le prestazioni del motore il risultato è veramente ottimo un risparmio di peso oltremodo notevole un'assoluta mancanza di vibrazioni e un sound molto corposo ma al tempo stesso compatto e assolutamente non invasivo marmita ovviamente omologata e foglio di omologazione che segue la marmita da poter mettere sul libretto giriamo che sia iniezione a carburatori non cambia niente prodotto sempre lo stesso attenzione vediamo se miracolo guardalo 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 signori questo è un mezzo del 2005 adesso aiutiamo un po al minimo il minimo è giusto grazie mille